Vediamo San Martino, 1.40 al fine, la finale promozione Calabone. P5 San Martino che ha palla in mano. Teneste di stoppa e Sandro da fuori, ha lanciato San Martino a P5. Terminava ha perso palla, ha sbagliato il tiro con Zanone all'ultimazione. Senti, Iacovic. Ehi, Iacovic! 1.25, questo è un miracolo, posso andare a Milano. Locadis, Baglias. Pagli su Zanone, pagli su Zanone.